Con una marcia silenziosa, il 20 marzo, Torino ricorda le vittime della mafia alla presenza dei parenti che vivono in Piemonte, di tanti comuni cittadini e di moltissimi studenti delle scuole del Piemonte e l'obiettivo della giornata della memoria e dell'impegno istituita con legge regionale nel 2007 e presentata a Palazzo Lascaris dall'Associazione Libere e dal Consiglio regionale Oggi ricordiamo la giornata del 21 marzo, giornata per ricordare le vittime della mafia l'impegno per il ricordo delle vittime della mafia Ci tengo a sottolineare che vittime della mafia sono sia le persone fisiche, colpite fisicamente da queste organizzazioni ma sono anche tutti i parenti, tutti i familiari che cercano comunque giustizia E in questa giornata, oltre a ricordare le vittime della mafia, dobbiamo ricordare, oggi le pagine dei giornali ne parlano ancora, la crescente corruzione del nostro paese Noi però non possiamo abbatterci, c'è un'Italia sana, una parte sana del paese e noi dobbiamo andare a seminare, a dare ossigeno e forza alla parte sana del paese affinché si possa costruire un paese migliore dove si sviluppi al meglio la coscienza civile e l'unica speranza credo sia ancora una volta partire dai giovani, quindi dalle nuove generazioni Qual è il senso della manifestazione del 21 marzo nazionale a Bologna e del 20 qui a Torino? Il senso è duplice, da una parte fare memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie che sono oltre 900 e dall'altra parte ristabilire l'impegno contro le mafie e contro la corruzione perché i due fenomeni non vanno assolutamente staccati da una parte ci sono le mafie ma dall'altra parte c'è la corruzione che è spesso il veicolo attraverso le quali le mafie si inseriscono nell'economia legale quindi una battaglia che riguardi le organizzazioni criminali ma che riguardi anche il fenomeno della corruzione